25th lesson, 25esima lezione, summer vacation, le vacanze estive, where do you guys spend your summer vacation each year? Ragazzi, dove passate tutti gli anni le vacanze? We spend two weeks in Grand Canyon in Arizona, passiamo due settimane in Grand Canyon in Arizona, so do I, why the Grand Canyon, why not Yellowstone or Yosemite? Anch'io, perché in Grand Canyon? Perché non Yellowstone or Yosemite? We love the South West Plus, we have a ranch house in Arizona, ci piace tantissimo il sud-ovest, tra l'altro abbiamo un ranch in Arizona, so do we, anche noi. How do you get down there each year? Come andate laggiù ogni anno? We drive, if my husband is driving, it's only a day's drive from Denver. Andiamo in macchina, se guida mio marito è solo un giorno di viaggio in macchina da Denver.